Eccomi, eccomi, eccomi! Sbrigati che stanno chiudendo il volo! Papà, raggiungo degli amici a Miami. Giulia, senti? Giulia! Welcome to Miami Beach University. Mi senti? No, purtroppo stasera niente burraco, sono a Miami. Ma non ci facciamo ricon... Spegnilo, papà. In mezzo a sta banda di matti, ma qua andiamo. Oh! Oddio mio padre! Da chi stavi scappando? C'è uno che mi dà il tormento. Dica, che fa? Scusi! Oh my God! Ma non era partito lei? L'Elocosta avevano esaurito i posti? Sei andata a letto col figlio dello scarpaio! Sei andata a letto col nemico? Oh! Sorry. Lo scarpaio c'ho 48 ore via da pianta larga, per cui se devi accarci, te faccio male. Oggi va tutto storico. Oddio l'ucidità. Lei è una brutta persona. Tu pretendi di cercare una ragazzina di 17 anni scappata qua a Miami alle 9 di mattina? Ma quella alle 9 di mattina va a dormire. Magari stasera va in un locale, farà stesso sfrenato. No. Non giocare su queste cose che a me mi s'è alzata nessuno. Ah! Ah! Mi si è rotto il tacco! Oh my God! E io mi si è rotto il cazzo! Oh my God! Andiamo! No no, è illegale! Ma te preoccupes! E invece me preoccupes! Madonna che fiata! I'm your master and you're my sister! Ah! Ma che sta a facerci? Quanta sfumatore di grigio! Potrei piacere anche una. Te no, ma la carta di credito tua sì però. Vaffa! Mandiamo un selfie alla mamma. Un selfie? Posso indostare la pulciara? Assabaudia! E noi indostiamo? A Miami! C'è l'audio? È un selfie, va va! Appunto!